Bene, veniamo adesso alle critiche alla nuova institutional economics e la parte finale come per ognuno di questi approcci dedichiamo un ultimo momento a alcune delle critiche. Nello specifico ci stiamo occupando di un tipo particolare di critica che viene da uno studioso Geoffrey Hodgson, nato nel 1946 e da poco in pensione, che è stato forse ed è ancora oggi uno degli esponenti più attivi di un approccio di institutional economics al lato senso che ha cercato, come anticipavamo prima, di recuperare un po' la old institutional economics, in particolare alcuni temi cari alla old institutional economics, come le consuetudini, il ruolo della, come la chiama Hodgson, della habituation, cioè delle abitudini, del modo in cui queste vengono incorporate nei comportamenti umani e ancora, diciamo, muovendo alcune critiche sempre care alla old institutional economics, all'home economicus e così via. Allora, è interessante Hodgson non solo perché è stato ed è ancora oggi, insomma, un personaggio tra gli economisti più citati attualmente negli UK, è anche il fondatore di questo journal of institutional economics che vedete sulla destra. Ma è importante perché lui è stato uno dei primi a rivolgere alcune critiche molto puntuali a Douglas North e questa è la ragione principale per cui affronto le critiche alla nuova institutional economics, sto fermandomi solo ed esclusivamente su Hodgson con qualche piccolo riferimento a qualche altro autore proprio alla fine, ma lui è in qualche modo l'autore che ha cercato più di ogni altro di recuperare alcuni temi che sono anche abbastanza vicini alla filosofia del diritto, cioè il ruolo della consuetudine. Quindi da un lato lui riprende la vecchia institutional economics e definisce le istituzioni come durable systems of establish and embedded social rules that structure social interactions, cioè istituzioni che sono durevoli, cioè che durano nel tempo, ma di cosa? Di regole sociali che sono appunto da un lato stabilite, cioè che appunto hanno una loro durata nel tempo, ma sono anche incorporate e che quindi distrutturano, cioè plasmano l'interazione sociale. In secondo luogo la sua critica, come dicevo, della nuova institutional economics, specialmente nella versione di North, è una critica molto puntuale, direi quasi vicina appunto a un tentativo di concettualizzare meglio le istituzioni che si avvicini a approcci un po' più filosofici. In primo luogo, dice Hodgson, nella nuova institutional economics c'è poca chiarezza, in particolar modo per quanto riguarda il concetto di istituzione e soprattutto nel modo in cui, se vi ricordate la definizione che abbiamo incontrato in precedenza di Douglas North, è il modo in cui lui utilizza concetti un po' quasi con nonchalance, concetti quali regole, vincoli, formali e informali. Ora, dice Hodgson, le regole formali, si chiede, ma chiedo ovviamente in maniera retorica, sono quelle giuridiche e oppure quelle legali, cioè quando North parla di regole formali, di cosa esattamente sta parlando, perché se sono la stessa cosa delle regole giuridiche o formali, dice Hodgson, allora le regole informali dovrebbero ad esempio essere quelle illegali e oppure non legali, ma anche su questo appunto non c'è una grande chiarezza. Quando ancora North utilizza la distinzione tra vincoli formali o informali o regole formali o informali, che cosa vuol dire, si chiede Hodgson, sono la stessa cosa, la distinzione tra formali e informali, è la stessa cosa tra regole espresse e regole tacite, la nozione di regole tacite è molto importante anche in economia, pensate a un altro premio Nobel, Friedrich Hayek, che ha cercato di sviluppare una certa idea di diritto consuetudinario, oppure, si chiede sempre North, sono il frutto della progettazione umana e così via, cioè Hodgson, scusate, mette in dubbio l'uso che fa Douglas North di questi concetti in maniera un po' vaga. Altre critiche che Hodgson rivolge alla nuova institutional economics, sempre nella versione di North, è che quando lui utilizza l'espressione regole e vincoli, lui si chiedeva sono sinonimi? Ora, attenzione perché qui la questione è il fatto che North una volta definisce le istituzioni solo in termini di vincoli formali o informali, lasciando intendere che le regole siano un caso speciale dei vincoli formali, però altre volte appunto utilizza questa espressione regole e vincoli come se fossero sinonimi. Allora Hodgson si chiede ma se tutte le regole sono formali e le istituzioni sono essenzialmente regole, allora tutte le istituzioni sono formali. Ancora una volta vedete che c'è poca chiarezza sull'utilizzo di nozioni che almeno per il diritto dovrebbero essere fondamentali e non possono essere usate con tanta noncialanza. Più in generale quello che Hodgson ci dice è questo e torna da questo punto di vista a quella cosa che abbiamo già incontrato con l'analisi economica del diritto, cioè nella misura in cui questi approcci economici al diritto, nello specifico la New institutional economics, pone questa enfasi sulle istituzioni come vincoli, cioè le istituzioni, le norme, le regole come vincoli. La parola vincoli in effetti tradisce questo vincolo esterno come lo chiamavamo prima e quindi il rapporto tra home economicus e le norme è un rapporto meramente strumentale, quindi l'istituzione, le norme, le regole, anche le consuetudini, se ridotte a incentivi, incentivi o premi e sanzioni, questo tradisce appunto una mancata riflessione sul problema 1 dell'obbedienza alle istituzioni e del loro fondamento di legittimità, cioè perché obbedisco a una regola? In virtù di quale principio che ad esempio legittima questa istituzione io obbedisco a quell'istituzione. Il problema ovviamente è uno dei problemi chiave, cardini della filosofia del diritto, ma tradisce anche una mancata riflessione sul problema della libertà. Questo perché? Perché è ovvio dalla prima mancanza, cioè nella misura in cui questo approccio non si chiede molto, o forse direi quasi per niente. Se questa riduzione delle istituzioni a semplici vincoli, a semplici incentivi e disincentivi non conduca in effetti, come dice Hodgson, a una mancata riflessione sull'obbedienza alle istituzioni, è ovvio che non si cura nemmeno della libertà, perché l'obbligo e libertà, il nesso sempre problematico tra obbligo e libertà, è un nesso inscindibile. Quindi se io non rifletto sull'obbligo che ho nei confronti delle istituzioni, o ho una concezione della libertà che, se volete, è meramente licenza, oppure, appunto, sto mancando una riflessione che, almeno per la filosofia del diritto, è cruciale. Un'altra obiezione forte che Hodgson rivolge alla New Institute of Economics, è proprio a partire da quello che dicevamo prima, è che se adottiamo una concezione delle istituzioni appunto come vincoli o come premi e punizioni, trascuriamo un aspetto fondamentale, cioè l'aspetto che ci lega alle istituzioni sulla base di un rapporto che potremmo chiamare lato senso ermeneutico, cioè la New Institute of Economics non spiega come le persone comprendono, interpretano e o valutano le sanzioni o gli incentivi, anche posto che le istituzioni, cioè, non siano altro che semplicemente premi e punizioni. Questi premi e punizioni, queste sanzioni o incentivi, devono comunque essere interpretati, non è che sono presi come dati dagli individui. Quindi non spiegano nemmeno perché gli individui dovrebbero prendere sul serio, ad esempio, queste sanzioni o incentivi e in definitiva perché dovrebbero scegliere di seguire una regola. Vedete il problema di nuovo dell'obbligazione, perché obbedire a una regola, perché obbedire ad una istituzione. Ora, questo processo per Hodgson è inevitabilmente un processo di interazione sociale. Per esempio, affinché le leggi diventino regole, istituzioni siano seguite, devono diventare consuetudini. Le istituzioni funzionano, dice Hodgson, solo perché le regole di cui sono costituite sono incorporate in abitudini condivise di pensiero e comportamento. Qui notate l'evocazione quasi di quella definizione di istituzioni che aveva già dato il nostro Thorstein Weblen, che abbiamo incontrato nella old institutional economics che Hodgson cerca di recuperare. Cioè le istituzioni funzionano perché appunto sono state incorporate in abitudini condivise di pensiero e comportamento. Cioè non puoi spiegare l'obbedienza all'istituzione se questa istituzione non è stata almeno un minimo incorporata. Certo, io posso obbedire alle istituzioni sulla base di un puro calcolo utilitaristico di costi-benefici. Mi conviene ad esempio obbedire alla regola se la sanzione è troppo alta? Beh, forse sì mi conviene. Ma se la sanzione è bassa potrei in effetti violare la regola. Se ad esempio io sono, non lo so, in un contesto in cui non c'è la polizia che mi controlla e che mi bastona, beh io mi sento allora, sulla base di questo assunto, libero di fare quello che voglio. E ovviamente è una spiegazione un po' povera. Certo non si può escludere che alcuni individui ragionino effettivamente così, ma è una spiegazione molto povera del problema dell'obbedienza. E Hodgson invece insiste sul ruolo di quella che lui chiama, come dicevamo, la habituation, cioè l'acquisizione di abitudini, che gioca un ruolo fondamentale dal suo punto di vista nello spiegare come un'istituzione si sviluppa, cresce, nasce prima di tutto, ma si sviluppa, cresce e anche muore. Perché se le istituzioni hanno questo rapporto di circolarità, come dicevamo prima, tra gli individui e le istituzioni stesse, cioè se si dà questo rapporto, micro macro, come l'abbiamo anche chiamato, cioè di interazione o di feedback loop, come qualcuno chiama questa circolarità, beh allora questa interiorizzazione dell'istituzione, questa incorporazione, questa embeddedness, cioè questo fatto che le istituzioni possano, come dire, essere, come dice anche lui in un altro famoso saggio, il nostro inside out, cioè sono in parte dentro ma sono in parte anche fuori di noi. Ecco, tutto questo è, secondo Hodgson, spiegabile, forse non proprio tutto, ma in gran parte spiegabile grazie al cosiddetto ruolo della habituation. Le abitudini lui le definisce come il materiale costitutivo delle istituzioni, cioè ciò che le dota di stabilità nel tempo, e anche potere e autorità normativa. A loro volta, riproducendo abitudini di pensiero condivise, le istituzioni creano forti meccanismi di obbedienza alle regole. Quindi l'abitudine, in questa prospettiva, non è la negazione della deliberazione o della scelta individuale di un certo corso di azioni, e non è nemmeno la negazione della libertà di scelta, ma bensì il loro fondamento necessario. Quindi il grande problema, torniamo ancora una volta agli assunti antropologici riduttivi, che dipendono dalla nozione di istituzione che è essa stessa riduttiva, cioè nella misura in cui intendiamo le istituzioni come premi e punizioni, incentivi o disincentivi, abbiamo già introdotto, abbiamo già pensato, questo povero uomo che deve obbedire alle istituzioni, come appunto un asinello, cioè come colui che risponde al bastone e alla carota. Allora, a modo di riflessione conclusiva, ci si può chiedere, ma veramente la new institutional economics considera o dice di partire dalla bounded rationality di Herbert Simon? Beh, da un certo punto di vista, ben vedere, sembrerebbe che continui a muoversi dentro quello che la Deirdre McCloskey ha chiamato max you, cioè il comportamento massimizzante dell'utilità dell'home economicus, cioè le istituzioni sono importanti in questa prospettiva in quanto entrano nella funzione di massimizzazione dell'utilità dell'individuo come vincoli. Cosa vuol dire entrano nella funzione di massimizzazione dell'utilità? Che come dicevo prima, io posso obbedire alle istituzioni se mi conviene secondo un calcolo costi-benefici, cioè se in qualche modo la carota è più premiante del bastone o fa meno male del bastone o ci dà più piacere del bastone. Ma è questo un modo che ovviamente fa sì che le istituzioni vengano ridotte ad una visione veramente economicista o funzionalista, perché io le considero solo in funzione della loro performance, della performance economica, cioè le istituzioni e le regole, come si diceva prima, certo è importante questo, ma non ci sono solo i costi di transazione, non c'è solo la proprietà privata, non c'è solo, dicono queste critiche, il fatto che le istituzioni siano funzionali alla crescita. È una concezione da questo punto di vista riduttiva, ma dipende a sua volta proprio da questa concezione riduttiva dell'umano che ne è alla base. Che cosa si trascura, cosa si perde in questa idea di istituzioni come vincoli? Beh, si trascurano altri fattori dello sviluppo economico e qui torna in gioco la Deirdre McCloskey, un famoso saggio, non dico ormai famoso, ma abbastanza recente, del 2016, pubblicato proprio, del 2015, chiedo scusa, pubblicato proprio sulla rivista di Hodgson, il Journal of Institutional Economics, ma risalente anche a altri suoi lavori del 2010. Il saggio era intitolato MaxQ versus Humanomics, cioè in cui lei elabora una critica abbastanza pungente della New Institutional Economics, dicendo che da un lato essa dice sì di tenere in conto della cultura, ma in verità di fatto continua a postulare l'esistenza di questo modello dell'uomo economicus, anche per la sua variante di bounded rationality, di fatto questo postulato continua a essere onnipresente e lo si vede appunto dal fatto che l'istituzione è concepita appunto come una serie di premi e punizioni. Dice lei, in verità esistono altri fattori dello sviluppo economico, cioè le istituzioni non sono solo funzionali allo sviluppo economico, ciò che determina anzi, secondo la McCloskey, lo sviluppo economico sono tutt'altri fattori, cioè le idee, la ricchezza dell'idea, lo scambio dell'idea e anche l'ideologia oppure l'etica eccetera eccetera, cioè qualcosa che determina il comportamento umano molto più di quanto possa determinarlo l'idea del bastone della carota. Infine, così aggiungiamo solo un ultimo pezzettino e con questo poi abbiamo chiuso il nostro tour de force dentro questi approcci di old e new institutional economics e in particolar modo le critiche, questi modi di pensare alle istituzioni alla institutional economics e in particolar modo secondo la new institutional economics che non è appunto quella di Hodgson, questo modo trascura anche i fondamenti sacrali, estetici o addirittura rituali o finzionali delle istituzioni, cioè tutto quell'apparato se volete simbolico per usare una parola o anche narrativo o estetico appunto su cui le istituzioni si reggono, i cerimoniali, anche i semplici come dire le semplici manifestazioni che spesso pensate al presidente della repubblica che è un po' la pietra, se volete, che tiene assieme la nostra carta costituzionale, cioè quella pietra di volta che sostanzialmente fa sì che l'istituzione, considerate che lui è anche garante della costituzione e dice la nostra costituzione, rappresenta l'unità della nazione, cioè è un'istituzione che in qualche modo è altamente simbolica, cioè non è solo il presidente in carne ed ossa, ma è anche l'istituzione della presidenza della repubblica, anche soprattutto l'istituzione della presidenza della repubblica. Tutto questo, per questo apparato appunto addirittura a volte anche sacrale delle istituzioni rischia di essere messo in secondo piano, ma se viene messo in secondo piano il problema è che si trascurano forse le vere fonti della legittimità delle istituzioni e quindi anche dell'obbedienza alle istituzioni.